Il Comune di Castellabate, la Proloco, Avigliamento Anni e Cilento Mania organizzano Il Libro va di moda terza edizione, elezione di Miss Libri 2017 Venerdì 18 agosto ore 21, Castello dell'Abbate, Castellabate Ospite d'onore Giuseppe Petrarca Non perdere l'appuntamento con la cultura e la moda, un binomio esclusivo Il Libro va di moda terza edizione, venerdì 18 agosto, Castellabate Grazie